Parte un aereo per l'Africa, a bordo oltre al team di comando c'è anche qualche passeggero e c'è una gabbia enorme con Gorilla che lo stanno a riportare in Africa. Comunque che succede? Dopo qualche ora di viaggio dalla torre di controllo perdono di vista l'aeroplano e non si trova più, e l'aeroplano si schianta in piena l'Africa. Insomma mandano tutti i soccorsi, dopo qualche giorno arrivano sul posto, trovano tutti morti e è sopravvissuto solo il Gorilla, pieno e lo portano subito a Ozo. Insomma cercano la scatola nera per cercare di capire quello che è successo a Stereo ma non si trova, è nata distrutta pure quella. Allora che fanno? Visto che è sopravvissuto sull'or Gorilla, chiamano il più famoso paleontologo mondiale che dice che è capace di far parlare gli animali. Allora portano a Stereo Gorilla per cercare di far sapere che cosa è successo a bordo di Stereo. Al che? Stereo paleontologo si mette davanti a Stereo Gorilla enorme e Stereo Gorilla e il paleontologo gli fa così. Bene, che cosa stava facendo il pilota? E il Gorilla? E il secondo pilota? E il Gorilla? E l'equipaggio? E i passeggeri? Allora quello fa? Beh, ricapitolando, allora il pilota stava a scopare e il secondo pilota stava a scopare, l'equipaggio stava a scopare, i passeggeri stavano a scopare Ma che in gibto l'aereo? E Gorilla meaiii! Edito Latvalore Abrava Abrave Abrava